carissimi amici del canale youtube e telegram dentro la notizia abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa maria rosalia randaccio che ci parlerà di cose veramente importanti e straordinarie non conosciute purtroppo ahimè dalla maggior parte degli italiani e che penalizzano il nostro paese complessivamente sotto l'aspetto competitivo dal punto di vista economico benvenuta maria grazie grazie per questa opportunità di poter raccontare delle cose che è incredibile non si sappiano non si sappiano da parte soprattutto della della classe politica ma anche dalla parte del degli imprenditori italiani perché che ci risulta vadano a delocalizzare all'estero in altre nazioni pur avendo la possibilità di farlo in italia nei territori istituiti come zona franca abbiamo che abbiamo naturalmente in italia esattamente da 22 anni abbiamo la zona franca della sardegna che è stata è stata istituita zona franca in tutta l'isola per cui gli italiani che hanno a cuore la solidità economica della propria impresa anziché stare lì ad andare a delocalizzare in altre nazioni potrebbero realizzare la loro delocalizzazione fiscale in sardegna che guarda caso è l'isola più bella del mediterraneo cioè avere la propria azienda in un posto dove si viene a far vacanza perché l'isola è bella merita ad essere vissuta è una cosa importante quindi ma lasciando perdere questo aspetto gradevole della sardegna diciamo che anche economicamente le zone franche servono per rilanciare l'economia di un paese in quanto tutto ciò che entra e tutto ciò che esce esce con iva assolta soprattutto tutto ciò entra senza pagare l'iva ed esce con iva assolta che vuol dire che un prodotto lavorato assemblato in un territorio istituito come zona franca e può andare nel mondo e competere con prodotti identici ad un prezzo inferiore e questa possibilità è stata data alla sardegna perché perché la sardegna un'isola lontana e un'isola lontana e spopolata e gravata da una disoccupazione anomala quindi questo diritto c'è stato dato riconosciuto addirittura del tradotto di roma del 1957 ma noi lo eravamo già nel dal 48 noi siamo stati nello statuto sardo si prevede la istituzione nella istituzione delle zone franche anzi dei punti franchi che poi diventano zone franche nel 98 statuto sardo che del 1948 quindi questo diritto noi ce l'abbiamo prima del della stipola del trattato di roma che del 57 e nel trattato di roma si prevede all'articolo 234 il l'impegno da parte della comunità europea con unità economica europea quella che oggi si chiama non europea a rispettare tutti i diritti degli stati membri che siano nati precedentemente alla nascita dell'unione europea che ripeto del 1957 quindi il diritto della salvegna ad essere zona franca è un diritto che noi abbiamo dal 1948 concretamente la legge che istituisce la zona franca su tutto il territorio della salvegna come ho detto è la numero 75 del 1998 ma questo è un decreto legislativo maria rosalia si dovevo dirti specifichiamo anche che ci sono delle normative europee quindi di grado superiore ci sta arrivando benissimo questo decreto legislativo numero 75 del 98 è un decreto che sta in una sola paginetta piccola piccola e la cosa che colpisce è non soltanto il titolo dove si dice istituzione delle zone franche nel territorio della salvegna ma si dice anche che è la istituzione di questa zona franca viene realizzata ai sensi della normativa comunitaria il normativa comunitaria e si richiamano i codici doganali comunitari che sono stati che sono stati emanati con i regolamenti richiamati numero 29 13 del 92 e 24 54 del 93 quindi con i regolamenti comunitari che sono si applicano direttamente a tutti gli stati membri mentre le direttive comunitarie ogni nazione le deve ricepire con apposita legge nazionale i regolamenti si applicano direttamente quindi applicandosi direttamente quindi questo diritto noi ce l'abbiamo dal 1998 quindi dal 98 ad oggi quanti anni sono passati sono passati 22 anni allora l'italia ha perduto in questi 22 anni la possibilità di delocalizzare le imprese che tante sono fallite soprattutto quelle avrebbero avuto un'altra sorte sicuramente se fossero state delocalizzate in salvegna perché avrebbe un significato per l'imprenditore l'esonero dal pagamento di tributi tutte le tasse poi diciamo anche diciamo anche i privati sono esonerati da lì giusto certo e non che per il pagamento di ogni tributo compreso l'imu sulla prima seconda terza quinta decima casa sui capannoni su tutto ciò che è la proprietà non solo dei salvi ma di tutti quelli che prendono la residenza fiscale in salvegna questo vuol dire zona franca che viene data eh soltanto i territori svantaggiati non è che possono ogni nazione possa dare le zone franco istituire le zone franche dove vuole no è vietato perché se l'articolo novantatre del tradotto di roma prevede proprio che se una nazione istituisce le zone franche in territori che non hanno gli svantaggi la commissione europea annulla quella istituzione già e questo potrebbe essere un risultato perché da 22 anni se non ci hanno annullato questa istituzione vuol dire che il diritto c'è è ovvio no quindi che lo che il diritto ci sia poi è stato confermato anche di recente nel 2018 quando eh quando era era ministro un sardo paolo savona che era ministro per i rapporti con l'Europa ehm in quel periodo eh l'articolo eh 13 cova 7 del eh decreto legislativo 142 del 2018 cosa mi dice con che continua ad applicarsi il dm dm 429 del 2001 che cos'è questo decreto legislativo questo dm 429 del 2001 è il regolamento di attuazione della legge che disciplina le zone franche e che cosa dice questa legge che disciplina le zone franche che i residenti i residenti nelle zone franche sono hanno diritto alla fiscalità privilegiata fiscalità privilegiata che significa che è il territorio svantaggiato per poter esercitare alla libera concorrenza come come lo fa lo fa soltanto attraverso la fiscalità privilegiata che vuol dire l'esonero dal pagamento dei tributi perché noi non potremo mai costruire un ponte tra la Sardegna e l'Italia non è possibile perché siamo un'isola ultraperiferica abbiamo tanti chilometri quadrati di mari attorno migliaia di chilometri quadrati di mari attorno quindi non potendo costruire o immaginare altre cose come succede in tutte le isole del mondo vengono date si dà la fiscalità privilegiata a compensazione dello svantaggio e quindi che vuol dire creare posti di lavoro ma creare posti di lavoro e vendere nel mondo il proprio prodotto in competizione alla Cina perché la Cina vende i prodotti facendoli partire dalle zone franche lo sappiamo ecco scorta Maria Rosaria tu mi dicevi prima che nel mondo ci sono circa 3000 zone franche 3000 quindi perché noi non ne approfittiamo quindi noi come Italia non solo ma la Francia la Francia ne ha 30 e noi in Italia non ne abbiamo neanche una possibile la Francia ha 30 ne ha anzi 31 ne ha 15 ne ho 16 nei territori d'oltre mare e altri 15 ne ha in Francia però anche la Spagna ne ha 12 la Germania pure ne ha 12 l'Inghilterra non sappiamo esattamente quante sicuramente in tutte le isole e noi italiani al centro del Mediterraneo vediamo passare le navi container centinaia di navi container che arrivano da su e nessuno si ferma in Sardegna perché o in Italia perché noi non abbiamo le zone franche le zone franche che però dove li abbiamo? Li abbiamo nell'oceano atlantico perché li abbiamo con cinque giorni di navigazione la nave container che passa davanti alla Sardegna arriva a Rotterdam ad Anversa ad Hamburgo ad Amsterdam che sono le città che nascono sulla foce dei fiumi navigabili d'Europa e queste città hanno dai 100 ai 200 chilometri di banchina zona franca banchina zona franca che significa che scaricano lì ovviamente senza pagare i dati doganali IVA e tutto il resto conviene scaricare le merci in zona franca e poi le arrivano a destinazione direttamente nessuno le può fermare Maria Rosalia prima tu mi parlavi dell'articolo 174 del trattato di Lisbona trattato di Lisbona benissimo allora c'è un'interpretazione autentica addirittura di questo articolo 174 l'interpretazione autentica numero 33 che dice naturalmente interpretazione autentica dell'articolo 174 dice che se si istituisce una zona franca in un'isola per zona franca si intende tutta l'isola tutta l'isola quindi non solo i sei porti della Sardegna ma l'intera isola leggendo questo decreto legislativo 75 del 98 cosa troviamo? subito dopo dove si dice che viene istituita ai sensi della normativa comunitaria doganale sulle zone franche mi dice anche che vengono istituiti in zona franca sei porti e poi mi dice tutte le aree industriali collegate collegabili ai porti siccome noi in Sardegna abbiamo un'area industriale per ogni paese la sua area industriale quindi se c'è una strada che da qualunque paese della Sardegna mi porta ad uno di questi sei porti in zona franca si intende tutto quel territorio e quindi non poteva che essere così quello che dice il Trattato di Lisbona è ovvio anche perché quello che è successo in Irlanda per esempio succede anche in Sardegna cioè in Irlanda avevano avevano istituito inizialmente la zona franca soltanto sull'aeroporto di Shannon e poi da lì tutta l'Irlanda è diventata zona franca con il principio dei trasfrontalieri che prevede che entro i 20 km da una zona franca anche chi risiede nei 20 km ha i vantaggi fiscali della zona franca ma anche chi confina con i 20 km di chi confina è così di seguito per cui quando siamo in un'isola di 20 km 20 km è tutta l'isola che diventa zona franca ripeto in base al principio dei trasfrontalieri è il principio che viene disciplinato dai codici dai trattati dal Trattato di Roma dal Trattato di Mastricht dal Trattato di Lisbona quindi su questo non abbiamo dubbi bene Maria Rosaria però adesso i cittadini si chiedono e perché se la Sardegna è zona franca per le normative italiane per le normative europee perché i sardi continuano a pagare le tasse e ce lo chiediamo anche noi perché qualcuno da tanti anni ci vuole far accettare le ZES al posto della zona franca mentre le ZES che sono zone economiche speciali sono vietate nella zona franca sono vietate perché le ZES sono degli aiuti che vengono dati per temporaneamente per problemi temporanei infatti si danno dai 3-5 anni e si danno poi soltanto agli imprenditori che vengono a lavorare e gli si dà come gli si dà questo aiuto come credito d'imposta ma il cittadino il cittadino non riceve niente l'uomo dalla strada il popolo sardo delle ZES non riceve proprio un bel niente e poi sono a termine il nostro è un problema geografico che non ha termine cioè è un problema geografico quindi sarà sempre così e infatti ci siamo spopolati per questo motivo perché cioè Maria Lasaria secondo te ci sono degli interessi stranieri che pedalizzano? è quello che stavo dicendo è ovvio che in una economia globalizzata in un'economia globalizzata la cosa più importante che dobbiamo capire noi italiani è che la concorrenza noi dobbiamo esercitarci a utilizzare la libera concorrenza che vuol dire che non è soltanto il garante della concorrenza che noi dobbiamo la concorrenza è anche quella che si esercita all'interno dell'Unione Europea una competizione tra gli stati che ci deve essere ma non può esistere una competizione che distrugge l'economia di un paese come attualmente è accaduto in Italia perché noi siamo dal 92 e ci siamo venduti tutti i soldi tutti gli immobili gli immobili dell'Inps abbiamo venduto milioni di immobili che facevano entrare tanti soldi ecco chi è che li ha venduti? Maria Lasaria chi è che li ha venduti? li ha venduti draghi svenduti senza sdemanializzarli va di bene per cui sono vendite secondo me che sono un intendente di finanza secondo me quelle vendite sono non nulle o annullabili sono inesistenti perché si può vendere solo ciò che ti appartiene oltretutto la sdemanializzazione grazie alle leggi sulla contabilità di Stato è attualmente codice civile codice civile 822 seguenti del codice civile dice che solo il ministero delle finanze può sdemanializzare non il ministero del tesoro Draghi è stata assunta lavorata al ministero del tesoro quindi lui non poteva sdemanializzare assolutamente quindi sono tutte vendite che secondo me si possono recuperare tutti questi immobili che sono stati privatizzati svenduti alienati regalati anche perché il pacchetto per vendere non so se lo sapete ma ve lo racconto io era un pacchetto dove venivano inseriti centinaia di immobili centinaia allora è ovvio che se tu mi fai dei pacchetti con centinaia di immobili gli unici che possono comprare centinaia di immobili chi sono? Le banche è ovvio che era dedicato a loro l'affare non certamente agli imprenditori italiani Ascolta Maria Giussana adesso viene il dubbio in chi ci ascolta ma se io non pago per esempio l'Imu parliamo dei cittadini comunque che hanno magari la seconda casa in Sardegna se io non pago l'Imu cosa succede? Vuoi raccontarci la tua esperienza personale? Certo e certo da che naturalmente io porto a questa battaglia mi sono guardata bene dal pagare l'Imu perché l'esonero dal pagamento di ogni tipo di tributo e significa anche l'esonero dal pagamento dell'Imu che è naturalmente il tributo che ci chiedono i comuni Allora mi dico lo stesso beneficio fiscale delle zone rodarismo compete anche a tutti migliaia di italiani che hanno la casa, la villa in Sardegna dove pagano dagli soldi, basta prendere la residenza fiscale, si prende la residenza fiscale in Sardegna e si ha non si paga l'Imu sulle seconde e terze case, non si paga l'Imu sugli alberghi, non si paga l'Imu sui capannoni, non si paga soprattutto la pensione percepita dai Sardi e dagli italiani che verranno a prendere la residenza fiscale in Sardegna non deve essere tassata ecco ma ci sono già esperienze non abbiamo bisogno di andare, gli italiani non hanno bisogno di andare in Porto no no Maria Rosaria, questo è un aspetto scusa è un aspetto importante perché giustamente non vogliamo far correre dei rischi alle persone che seguiranno questo consiglio tu puoi portare dei casi campione dove effettivamente non sono state pagate queste imposte e comunque lo Stato non ha diritto di esigerle per evitare che i cittadini vado in incontro magari a sanzioni allora, sì, non è automatico, vivo in Sardegna e non pago l'Imu, vivo in Sardegna e mando una domanda, faccio una domanda in carta semplice all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane dove spiego esattamente che questo diritto a non pagare nessun tipo di tributo e quindi neanche l'Imu mi viene concesso perché la Sardegna è zona franca devo chiedere all'agenzia delle entrate che di poter instaurare con l'agenzia delle entrate un accordo dove io spiego e devo essere credibile perché devo citare le leggi giuste, devo citare le leggi che servono per ottenere anche questa esenzione non è il pagamento di ogni tipo di tributo, non è automatico, ho necessità anche di scrivere per fare l'accertamento con adesione se l'agenzia delle entrate mi manda la cartella dell'Imu o il comune mi manda la cartella dell'Imu e non mi ha prima chiamato, mi ha convocato perché è obbligatorio siccome i nostri tributi si chiamano armonizzati cioè chi è nelle zone franche, la normativa sulle zone franche è europea e quindi si chiamano normativa armonizzata perché riguarda tutti gli stati membri dell'Unione Europea allora noi in Sardegna abbiamo il nostro diritto, lo possiamo rivendicare in base ai tributi armonizzati e allora le amministrazioni sia l'agenzia delle entrate che il comune prima di mandarmi la cartella è obbligato a chiamarli e poi abbiamo diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea ma anche della Corte Costituzionale Italiana che appunto prendono l'obbligatorietà l'idea di chiamare prima di mandarmi la cartella e quando io poi ti mando la domanda con la quale io ti chiedo una concertazione per spiegarti perché e per come l'agenzia delle entrate si deve fermare per 90 giorni e non deve procedere all'iscrizione al ruolo perché questa domanda noi la dobbiamo fare prima di impugnare le cartelle cioè quando arriva la cartella noi non dobbiamo impugnarla davanti alle commissioni tributarie tra l'altro è vietato per quanto riguarda i tributi armonizzati e per quanto riguarda soprattutto la normativa doganale le zone franche sono all'interno dei codici doganali come ho detto quindi è necessario che prima di impugnare la cartella noi mandiamo questa domanda all'agenzia delle entrate con la quale chiediamo di essere facciamo un concordato ci mettiamo d'accordo cioè io non voglio non sono un evasore non voglio eludere le tasse non voglio con artefici e raggiri usare la normativa fiscale per avere dei vantaggi no io per sopravvivere perché la mia azienda possa lavorare e poi io posso esercitare la libera concorrenza che è la base ai sensi della quale sono stati emanati i trattati i trattati, il trattato di Roma, Massimo, Lisbona hanno come finalità ultima ma anche principale quella dell'esercizio della libera concorrenza e infatti cosa è successo? perché si possa esercitare la libera concorrenza tra i residenti delle varie nazioni e sono state abbattute le barriere doganali non ci chiedono il passaporto come facevano prima ribadiamo Maria Rosaria questa è una cosa, una zona franca che è già in tutto il mondo operativa in 3.000 località quindi non c'è un'indagine straordinaria è una cosa normale ora tu mi indicavi prima che il problema che qui in Italia non è molto conosciuta è perché non si studia diritto doganale europeo all'università non si studia neanche sì, nelle facoltà giuridiche scienze politiche, economia e commercio giurisprudenza non si studiano i codici doganali cioè si studia diritto dalla navigazione ma non si studiano i codici doganali non si studia i codici doganali all'interno dei quali c'è proprio la ci sono le zone franche quindi praticamente chi poi è diventato avvocato commercialista o magistrato non conosce la cosa più importante dell'economia italiana ecco perché quello che gli italiani non sanno anche è che noi abbiamo dei porti che sono porti franchi non è soltanto Trieste Porto Franco che lo è diventata da 2017 è diventato Porto Franco italiano ma dal 48 era Porto Franco dell'Austria e della Germania sul Mediterraneo ma noi potevamo già dal 48 avere il Porto Franco anche italiano ma abbiamo come Porto Franco Genova abbiamo come Porto Franco Napoli abbiamo come Porto Franco Messina per quale motivo l'Italia non ha attivato i porti franchi? veri? per quale motivo? perché noi è chiaro perché non sappiamo esercitare noi la libera concorrenza non sappiamo gestire la nostra economia che deve essere gestita da persone che devono conoscere prima di tutto i trattati quindi ignoranza e corruzione ignoranza e corruzione da parte dei nostri governanti ha fatto sì che noi ci ritroviamo penalizzati nei confronti nel mondo intero di tutto il mondo certo va bene allora ascolta poi Maria Rosania ci concedi questa bozza di domanda che la pubblichiamo nel nostro canale Telegram così chi la vuole chi vuole prendere visione è un fatto simile dove ognuno può richiamando la normativa che ti ho dato può instaurare un rapporto con l'amministrazione finanziaria se tutti i sardi e tutti gli italiani mandassero questa letterina perché si tratta di una letterina in carta semplice da mandare all'agenzia delle entrate richiamando la normativa e noi da un giorno all'altro potremmo risolvere il problema perché l'agenzia delle entrate non dovrebbe più far finta di non conoscere la normativa perché ce lo sta dicendo anche il legislatore italiano un po' in ritardo però ce lo sta dicendo adesso da 2000 quanto meno da 2018 grazie al ministro Savona all'ex ministro Paolo Savona grazie grazie a Paolo Savona un sardo va bene va bene io direi con questo primo appuntamento perché poi magari se ci saranno altre cose ci rincontreremo ancora Maria Rosaria è stato un piacere e poi soprattutto penso sia una cosa molto utile per tutti gli italiani noi siamo la zona franca dell'Italia e degli italiani non siamo la zona franca dei sardi siamo un milione e mezzo di persone avete idea di che cosa che disastro economico ci sia in Sardegna noi siamo rischiamo veramente di sparire con gli indiani d'America dalla fascia della terra perché siamo un milione e mezzo sparsi in un territorio grande come la Sicilia come la Lombardia come il Piemonte quindi è una questione di sopravvivenza di questa terra bellissima dovremmo capirlo dovremmo capirlo e darci una mano d'aiuto benissimo benissimo resistere ad affrontare ti ringraziamo Maria Rosaria è stata molto gentile eloquente e anche esauriente in tutte queste tematiche ripeto se poi ci sarà l'opportunità di altri sviluppi su questa tematica o su altre che riguardano chiunque abbia i dubbi siamo qui siamo qui per rispondere attraverso te e me ci sentiamo per tutti i dubbi se tu pubblichi questo documento fai una cosa veramente di una importanza incredibile non solo per la Sardegna e Sardegna ma per l'Italia tutta sicuramente sarà fatto ringraziamo un abbraccio Maria Rosaria ciao alla prossima alla prossima ciao 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 prima di concludere volevo ringraziare la Bife International che consiglia occhiali con protezione luce blu al 100% made in Italy la luce blu è emessa da lampadina led e all'oxeno e dagli schemi di pc tablet smartphone e tv e causa disturbi quali occhio secco e occhio rosso astenopia mal di testa stress ossidativo rischi di degenerazione maculare e cataratta insonnia inibisce la secrezione di melatonina uno studio ha dimostrato che dopo due settimane di utilizzo di lenti con filtro per la luce blu vi è stato un aumento della durata del sonno di 24 minuti e un aumento di melatonina del 58% carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 110.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo purtroppo però le donazioni sono molto poche mettendo a rischio il nostro lavoro è particolarmente importante quindi in questo momento il vostro sostegno chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite l'email in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi qui e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro Roby